Il 14 luglio scorso è scaduto il contratto di comodato della fornace di Agropoli, bene immobile comunale concesso gratuitamente alla Fondazione Vico di Vatolla prima per sei mesi e poi per altrettanti sei mesi rinnovati dall'Aggiunta Comunale. Già sull'annuncio della concessione affiorarono polemiche in città per aver affidato in modo diretto la struttura senza nessun avviso pubblico da parte dell'ente comunale, pertanto le associazioni auspicano che l'amministrazione guidata dal sindaco Adamo Coppola predisponga un bando aperto ad una partecipazione collettiva al concorso. Nel frattempo arrivano presso l'ente comunale le manifestazioni di interesse per l'utilizzo. Il gruppo Martec, appena costituitosi, formato da quattro associazioni culturali, Mati, Cilento Channel, Avanguardia Cilentana e Lumina Mondi, propone all'amministrazione comunale agropolese una manifestazione di interesse per il museo La Fornace, venuti a conoscenza della ormai imminente cessazione di concessione della struttura Museo La Fornace, sito in Viale Lombardia 18 ad Agropoli, si legge nella nota stampa, lo scrivente gruppo Martec va a richiedere dal mese di settembre del corrente anno la disponibilità ad utilizzare la suddetta struttura per alcune delle attività e manifestazioni in programma già ad ora in Martec. Nello specifico si intende realizzare concerti, eventi, spettacoli teatrali, performance, attività di cineforum, festival. Chiediamo altresì, continua la nota, di ricevere risposta entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della presente al fine di consentire allo scrivente gruppo Martec di poter organizzare e rendere possibile in maniera concreta la nostra proposta. Le attività immaginate da Martec sono innovative in ambito culturale e comunicativo. Il gruppo è formato da professionisti e giovani laureati e attivi da anni in ambito nazionale ed internazionale. Principalmente l'obiettivo è quello di aggregare professionisti, appassionati, simpatizzanti e cittadini affinché si possa valorizzare maggiormente la cultura.